Buongiorno a tutti, eccoci qua collegati dal mio ufficio, siamo nell'isola della Speranza, come potete ben vedere, questo è il mio ufficio e questo è ciò che vedo nei miei occhi e che dire, da quando nel 2021 la casa editrice Altromondo Editori mi ha fatto un contratto e mi garantisce la lavorazione per una produzione di questo libro che uscirà nel 2024, ci stiamo lavorando tutto spesato dalla casa editrice e guardate che magnifica visuale ho davanti ai miei occhi per trovare l'ispirazione giusta, questa è la mia postazione, questo è l'ufficio e niente siamo qui, siamo facendo la colazione del campione, tutti collegati, adesso partirà un po' di musica per darci il clima giusto, per trovare la serenità, guardate qui all'orizzonte cosa vedo nei miei occhi e niente, il libro a cui sto lavorando è L'uomo che lavora con il karma di Federico Lai e niente, diciamo che va tutto bene, diciamo che la produzione è buona e che stiamo lavorando sodo e lavoriamo duro soprattutto come potete ben vedere e naturalmente con questa visuale, con questo scorcio di terra, con questo scorcio di mondo, di Sardegna, troviamo l'ispirazione giusta per scrivere delle narrazioni che spero che vengano tradotte in 40 lingue tipo Coelo, questo è il fantastico cielo e questa è la terra di Sardegna, un abbraccio a tutti, buona giornata e buon lavoro!